Ciao ragazzi, siamo Paola Vinci e Alberto Cattivera. Questo è il nostro video, solo per voi. Mi raccomando, votate lista 3. Allora, iniziamo dalla prima domanda. Che cosa è il tuo? Faccio il trovato? Così? Così? Mi ricordo. Visto che ti vedo un po' inutile, grazie nel prossimo momento, quale sarà la prossima lista che voti per la mia prevenzione della succursata? Beh, prof, lista 3. La prossima lista la lista 3 vota la lista 3 Alfa che cammina la lista 3 può tutto vota la lista 3 vota Albe alberto perchè è un bravo ragazzo di Fagg e isquidabile e vota la lista 3 che lista vota vota la lista 3 vota la lista 3 vota la lista 3 che fa Castoro vota la lista 3 vota la lista 3 perchè è il migliore 2 2 3 2 3 vota la lista 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 3 Opa'n Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 그때까지 가볼까 고마워 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 Grazie a tutti